Polemiche per la presentazione all'Aquila del libro La Morte della Repubblica, edito da Altaforte Edizioni e scritto dall'avvocato Marco Mori, ex candidato sindaco a Genova per il movimento di estrema destra e candidato alla Camera alle ultime elezioni sempre per Casa Pound. È il libro della discordia che sta dividendo l'Italia in due, tra le associazioni antifasciste e Casa Pound, che presenterà il volume domani alle 16.30 a Palazzo Fibbioni, sede provvisoria del Comune dell'Aquila. Escluso dal Salone del libro, dopo infinite polemiche tra gli antifascisti e il direttore del Salone, che aveva inizialmente accolto anche uno stand della Casa Editrice vicino a Casa Pound, Mori sta girando l'Italia per presentare il suo lavoro. Ma all'Aquila, come recentemente anche alla Spezia, le associazioni dei partigiani, sindacati, diversi comitati cittadini e partiti di centrosinistra si oppongono alla manifestazione e organizzano per domani alle 17.30 un sit-in in Piazza Nove Martiri. La Casa Editrice che lo pubblica, il proprio esponente, il proprio responsabile, si è manifestamente dichiarato fascista e ha dichiarato che l'antifascismo è il male dell'Italia. Per questo ha ricevuto una denuncia per apologia di reato e io penso che in Italia le leggi vadano rispettate, dunque noi crediamo che questo vada contrastato e che alla fine sia un po' una vigliaccata, diciamo così. Per il responsabile di Casa Pound, Abruzzo e Molise, Simone Laurenzi, quello dell'associazione dei partigiani è una posizione antidemocratica volta a impedire la libertà di pensiero. Veniamo definite come persone ignoranti e volgari perché vogliamo presentare un libro che tratta di temi economici. Per noi le persone ignoranti e volgari sono quelle che vogliono impedire le altrui iniziative. Poi ci ha fatto sorridere anche il fatto che viene contestata altaforte edizioni come una casa editrice indagata o accusata di apologia di reato. Noi da quello che sappiamo la responsabilità penale appartiene al singolo individuo, non ci risulta che le case editrici possano essere accusate di apologia di fascismo.